Ragazzi, in questo mondo usa e getta. Gli oggetti, gli etrodomestici, hanno perso il valore. Compri un tostapane per 20 euro, lo usi 3-4 volte, si rompe, lo butti via e lo compri un altro. Ma io vi dico, un tostapane col Mickey Mouse vale di più di 20 euro. È dura per sempre. E non solo, se lo comprate adesso, vi diamo il modello speciale che vi fa anche la canzone. Un attimo.